Il New York Times ha pubblicato un articolo molto interessante su quelle che saranno le tendenze di moda in questo secondo scorcio del 2021. Interessante perché esistono delle aziende che da tempo si occupano di predire le tendenze, i trend. Quindi già l'anno prima, prima della pandemia, usavano diversi metodi per vedere quello che la gente avrebbe voluto indossare nell'anno successivo. Poi però è arrivata la pandemia e tutto quello che le aziende si erano immaginate sia in termini di tendenze sia in termini di stoccaggio magazzino. E' andato tutto in malora nel senso che la gente non si è messa più certo a comprare nei tacchi alti, nelle giacche con le cravate perché tutti più o meno, no tutti, siamo rimasti a casa in tutto il mondo. E' stato questo sì veramente una tendenza mondiale. Adesso però piano piano si riprende a vivere, quindi si riprende anche a uscire e le aziende che vendono abbigliamento si stanno chiedendo cosa caratterizzerà il futuro. Bene, proprio così come il lavoro, ora che la gente ha provato il gusto del lavoro da casa, non vuole più tornare in ufficio, comunque non vuole più tornarci per 40 ore alla settimana. Anche per l'abbigliamento la gente si è resa conto che in effetti è più comodo stare con la tuta da ginnastica piuttosto che giacche e cravatta abbottonate fino col collo stretto. Però in ufficio comunque qualcuno ci dovrà tornare e comunque anche non tutti vogliono stare 24 ore al giorno con la tuta da ginnastica. Allora ci sono dei nuovi trend che piano piano cominciano ad affiorare, però anziché andarli a vedere nelle sfilate di moda o nei prodotti preparati in gran segreto dai grandi stilisti, adesso i trend sono quelli che emergono da internet, quindi dalle ricerche che la gente fa su Google di cose che vorrebbe acquistare o vedere o trovare, oppure da quello che compare sui social come Instagram e TikTok. Tra i trend, tra le tendenze che ho trovato citate in questo articolo del New York Times, metterò poi il link nelle note del programma, due sono quelli che mi hanno colpito. Uno è il cottagecore, il cottagecore fashion, è praticamente vestiti lunghi a fiori tipo casa nella prateria, avrete già visto in giro le maniche a palloncino. E il secondo trend è quello dei coatigans, cioè i cardigans lunghi tipo cappotto, belli avvolgenti e caldi, quindi tenete d'occhio, cottagecore e coastigans. Grazie a tutti.